A parte del massaggio andiamo a drenare il nostro naso, facendo una leggera pressione verso il basso e poi andando a drenare gli zigomi. Ancora andiamo a drenare il nostro labio superiore, passando anche sulle rughette di espressione e da qui andiamo a drenare il nostro mento. Portando verso l'orecchio, da qui pratichiamo un dettiero massaggio del nostro collo, salendo e poi portando tutto dietro l'orecchio e poi scendere alla base del collo. Le manovre sono molto importanti perché aiutano a drenare e riossigenare i tessuti che presentano gonfiori ed impurità, eliminando le tossine e i distanni liquidi. Il linfodrenaggio lavora anche molto sul nostro sistema immunitario rinforzandolo e anche sull'aiutare a rigenerare la nostra pelle, aiutando la produzione di collagene e elastina. E' utile nei momenti di stanchezza e di stress perché aiuta anche a rilassare e a calmare. Spero di esservi stata utile e a presto, seguiteci ancora. Ciao!